L'estate di Alessia Marcuzzi è ufficialmente iniziata. Anche se le temperature non sono ancora caldissime. La conduttrice ha deciso di rilassarsi al mare e ha sfoggiato il suo fisico in forma indossando diversi bichini colorati. Dopo gli impegni invernali alla conduzione di Viva Rai 2 a Sanremo 2024, la 51N è partita per la costiera amalfitana. Ecco le immagini di Alessia durante il weekend nella splendida Positano insieme ad un gruppo di amici. La conduttrice ha soggiornato nella fantastica Villa Treville. Un albergo extra lusso che in passato è stata la casa del regista Franco Zeffirelli. Oggi la proprietà è passata nelle mani della famiglia Friedland che l'ha trasformata in una struttura ricettiva con camere e suiz che arrivano a costare fino a 15.000 a notte. La Marcuzzi si rilassa al mare tra gite in barca e cene con le amiche. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Non ha ancora ritrovato l'amore. Ma la sua vita è piena di gioia e affetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.